Pensiero del giorno. Getto ogni paura riguardo al denaro nelle fiamme della luce e dell'amore. L'abbondanza divina è la volontà di Dio per tutti, incluso me, quindi per me è sicuro ricevere. Permetto agli angeli di risolvere i miei vecchi problemi finanziari e di sostituirli con la certezza che Dio ha sempre provveduto alle mie necessità e sempre lo farà. Goditi l'abbondanza divina. Le tue preghiere per aumentare la tua riserva di denaro sono state ascoltate. Noi angeli ti stiamo guidando a essere aperto a ricevere ricchezza in modi inaspettati. Più riesci a restare positivo e ad avere fiducia che le tue necessità finanziarie saranno soddisfatte prima i tuoi sogni si realizzeranno. L'unico blocco che tiene lontano il denaro è la paura di non averne abbastanza. Questa preoccupazione crea un campo energetico negativo e la paura crea un segnale di divieto d'accesso che blocca l'energia del denaro. Oggi permettici di aiutarti a svelare l'amore che è dentro di te. Così come accendere una lampada dissolve all'istante l'oscurità questa energia scaccerà l'ombra della paura. Chiudi gli occhi e respira a fondo mantenendo l'attenzione di esprimere completamente la tua luce interiore. Chiedici di aiutarti e aggiungeremo il nostro potere al tuo. L'amore è l'unica vera forza dell'universo e la volontà di Dio per te è l'abbondanza. Apri il tuo cuore al cielo e le braccia all'abbondanza divina.